di cui siamo ancora alla ricerca del terzo e ultimo numere Numere, numere! Buongiorno a tutti ragazzi, per sfogliare questo malloppone e molto altro abbiamo bisogno di presentare questo video in due luoghi differenti quindi iniziamo con quello che abbiamo lasciato a Reggio Calabria Benissimo ragazzi, non so ancora dove metterò questa clip che sono costretto oltretutto a registrare da solo ma abbiamo qui gli acquisti di novembre e dicembre che peraltro devono rimanere qua a Reggio Calabria perché non riusciamo a creare una clip unitaria, abbiamo già diviso il video in sé in due parti e questo qui sarà ulteriormente concentrato fra Reggio Calabria e Padova quindi andiamo brevemente perché siamo pure di partenza oltretutto qui abbiamo Drifting Netcafé volume 4 di Shuzo Shimi di cui vi abbiamo parlato anche nei precedenti videoacquisti io l'ho già letto tutto a dire il vero in Scarna perché non riuscivo ad aspettare il tasso di pubblicazione della Goen poi Gengaku Picasso e lo squalificato sono due serie che abbiamo trovato in quelle famose fumetterie di Ferrara di cui vi stavamo parlando nello scorso videoacquisti peraltro Gengaku Picasso due di questi numeri dovrebbero essere fuori di produzione noi l'abbiamo trovata in celofanata, serie completa 18€ quindi ce la siamo accaparrate probabilmente la leggeremo questa durante le vacanze pasquali e lo squalificato di Usamaro Furuya lo abbiamo già nell'edizione Omnibus però trovandolo lì ci siamo detti ma perché non prendere anche questi brossurati che sono molto carini, molto fighi e abbiamo deciso di optare per questa soluzione poi forse un giorno venderemo la versione Omnibus della Planet Manga o questi tre ma in ogni caso è bello averli anche a prezzo stracciato in questa edizione proseguiamo con Uro Tsukidoji, l'avete visto in diverse serie, in diversi videoacquisti l'ho messo tutto insieme, tutto e quattro completo lo ritenevano introvabile però questa versione della D-Books alla fine ce la siamo accaparrata prendendolo tassello per tassello ed è qua completa, meraviglioso Toshio Maeda probabilmente lo avete potuto conoscere recentemente con Jigokuno Senki della Ikari che peraltro era presente nella prima parte di questo video che vi invito a recuperare molto molto figo, peraltro sto traballando tantissimo col cellulare quindi proseguiamo, un maestro dell'estremo, dell'eroguru insomma ne abbiamo già parlato ampiamente, ne abbiamo già trattato ampiamente poi tre spillatini dell'uomo ragno che mi mancavano perché li sto facendo tutti oltretutto questa breve clip poggia proprio su degli scatoloni di Batman dove sono inseriti i volumi dell'uomo ragno quindi pensate voi, vabbè a me non interessa l'estetica degli scatoloni sinceramente associata poi allo spillato e tutto il resto però sono i numeri 47, 48, 49 e 50 meravigliosi della Star Comics naturalmente naturalmente io sto cercando di completare tutti i volumi dell'uomo ragno spillati fino ai giorni nostri ce l'ho fino al... mi mancano veramente pochi numeri ce l'ho fino a 700 poi gli altri che sono usciti successivamente li recupererò a lotti scontati e tutto il resto perché 5 euro ha spillato assolutamente no e poi gli altri supereroi e le leggende DC che non vi ho fatto vedere l'ultima volta perché non ero riuscito a prenderli tutti dall'edicolantino una volta comunque stiamo parlando di New Teen Titans il contratto di Giuda Batman il cavaliere maledetto Flash fuoco incrociato The New Frontier parte 1 e parte 2 Batman Arkham Asylum e Batman Superpesante parte 2 e completiamo il quadro con queste strisce di Tex come potete vedere il mio edicolante dovrà tenere i raccoglitori ancora per un po' in negozio perché non riuscivo a metterli in zaino fisicamente ho preso tutti i numeri che mi mancavano per il momento e arriveranno fino alla fine di tutta la saga delle strisce spettacolare, anastatica e davvero per chi è appassionato da non perdere oh finalmente siamo qui con la seconda sezione praticamente a fine mese quindi uscirà un video acquisito dopo l'altro non perdiamo altro tempo partiamo subito col botto con la prima edizione di Eden di Rocky Endo questa serie che è stata riproposta recentemente anche dalla Planet Manga nella sua veste cartonata al prezzo modico di 24 euro a volume era veramente qualcosa di sproporzionato infatti abbiamo atteso e l'occasione è arrivata grazie ai ragazzi di Tavola Calda che ci hanno proposto uno scambio in cambio di questa bellissima serie una tripletta di volumi scontati al 50% da libraccio oramai la produzione intera della Bao Publishing e della Toon Web si trova lì dopo pochi mesi e trovi un qualsiasi volume al 50% e abbiamo quindi Zotto di Scott McCloud, Patience di Daniel Close e Nocturno di Tony Sandoval di quest'ultimo iniziamo da questo abbiamo letto buona parte della sua produzione abbiamo adorato Echie Invisibili, Il Cadavere e Il Sofà ma soprattutto ammiriamo tantissimo il comparto grafico con cui riveste tutte le sue opere e un tratto peculiare, una capacità narrativa e fiabesca che si esprime in primis con le sue tavole non c'è assolutamente nulla da dire quindi tutti i cartonati della Toon Web che sono stati pubblicati a nome di Tony Sandoval li trovate sicuramente da libraccio poi abbiamo Patience di Daniel Close suggerito veramente a tantissimi ragazzi soprattutto nel gruppo Telegram avevamo intenzione di recuperarlo il prima possibile occasione quindi per leggerlo, godercelo e conoscere qualcosa oramai non sappiamo assolutamente niente di quest'autore ma c'è stata quindi l'occasione con questo scontone da libraccio Zotti Scott McCloud è un'ottima fusion tra comics e manga uno dei primi della storia e raccoglie tutti gli episodi in bianco e nero della serie di Scott McCloud degli anni 80 che peraltro molti di voi lo conosceranno per capire e fare e reinventare il fumo grazie, se no mi sarei impampinato passiamo ora ad una tripletta questa volta a tema manga partendo con Gonagai Kecko Kamen questa vecchia serie di e-books di cui siamo ancora alla ricerca del terzo e ultimo numere numere numere, numere vai no, no, no no, invece la lascio così questa qui è una miniserie in tre volumi di cui appunto stiamo ricercando ancora il terzo che sarà con la copertina gialla veramente una colorazione affascinante potevano farla verde e rendere tutte e tre accese vabbè, comunque vabbè, giallo non è che sia poco acceso comunque Kecko Kamen questa miniserie che fa parte della della branca satirico-ironica del maestro quindi siamo veramente contenti di recuperarla sì, satirico-ironica e direi anche erotica a dire il vero nello scorso unboxing che abbiamo presentato qua sul canale troverete un'altra serie che siamo riusciti a ottenere sempre del maestro Konagai sfogliamo un po' il volume perché veramente cioè, forse lo mostriamo in praticamente ogni video acquisti però non possiamo che che è un po' a luci rosse a posta non l'avevo sfogliato un po' tanto vabbè, ma se andiamo veloci forse YouTube ci grazia ecco e quindi in tre volumi dobbiamo trovare il terzo avevamo già mostrato il primo mi sembra sì, sì come avevamo già mostrato il secondo di questa miniserie del maestro Shotari Shinomori il cosiddetto re dei manga anche collaboratore di Osamu Tezuka non mi piacciono queste copertine lucide però va bene sono veramente bellissime invece in questa colorazione anche verdonio la riflettente con Masked Rider sì, riflettente guarda, ti vede tutta la mia mano tutta, tutta non si vede niente comunque andiamo avanti Masked Rider diciamo che siamo stati fortunati nell'averla trovata anche a prezzo abbastanza modico perché è difficile anche da reperire e anche questa qui eravamo veramente curiosi di leggerla poiché abbiamo recentemente letto Shotaro Shinomori proibito sì, Shinomori proibito della Ikari quindi abbiamo veramente grandissime aspettative sì, non conosciamo molto il percorso lavorativo e la qualità di un mangaka come Shotari Shinomori però Shinomori proibito veramente ci ha entusiasmato e sappiamo che i mangaka della prima generazione moderna sono capaci appunto come Tezuka di sforare in qualsiasi genere li si imposti sì, spaziare ovunque veramente aspettavamo appunto il primo volume per poter leggere anche Masked Rider e qui che abbiamo? un'altra miniserie di Daisuke Igarashi con Saru questa vecchia composizione della J-pop che era anche questa abbastanza difficile da reperire però non è l'unica che abbiamo trovato di Daisuke Igarashi del quale stiamo recuperando piano piano tutto ci manca soltanto Children of the Sea che è abbastanza più lunga da prendere ed è Witches il primo numero che vedrete anche prossimamente sul video acquisti di gennaio nuovo progetto nuova collana per l'editoriale Cosmo che decide di pubblicare adesso i grandi maestri dell'Eros dopo la recente stagione con l'erotismo italiano che giunge a conclusione quindi abbiamo trovato sugli scaffali grazie all'editoriale Cosmo Zora Vampirella Biancaneve e tantissimi altri soggetti dell'erotismo italiano anni 70-80 e che succede? esce una collana dell'Eros e noi non la acquistiamo ma non siate ridicoli ragazzi insomma e qui abbiamo come capostipide di questo nuovo progetto Dodo cronache di una casa chiusa ovvero un bordello durante il periodo nazista e non possiamo chiaramente mostrarvi più di da quante cazzo di volte lo diciamo in un video acquistico e non possiamo mostrarvi troppo le tavole interne però abbiamo selezionato qualcuna dell'introduzione perché poi è un tripudio dello svestirsi come giusto che sia insomma ragazzi è già uscito oltretutto Justine di Guido Crepax la seconda pubblicazione che abbiamo già acquistato naturalmente proseguiamo con il grande libro dei quiz a fumetti e sui fumetti e manga nel momento in cui l'ho osservato l'ho sfogliato un attimo in libreria mi aspettavo una cosetta legata in più ai lettori di ultima generazione con Naruto One Piece invece invece non solo vengono inseriti questi grandi manga shonen ma non viene ignorato chiaramente tutto il contesto generale dell'universo Marvel del fumetto italiano del fumetto europeo domande su Asterix e Obelix Daniel Flows si va di dura anche molto indietro infatti qui troviamo Little Nemo Archibaldo e Petro Nilla quindi sono domande non scontate e anche molto specifiche sì è un modo oltretutto per potersi divertire con gli amici infatti probabilmente chiameremo qualcuno che ne so chiamiamo Richie Da Nerd Nicola D'Annate e ci facciamo un bel quizone tutti insieme no prosegue questa affascinante collana di Eticolo ovvero mondo graphic novel vi lascio il link in descrizione delle nostre opinioni sul primo numero che era Scheletri di Zero Calcare e una collana che abbiamo detto come punto di forza ha l'intenzione di non negare quella che è il generale percorso del fumetto mondiale perché allora Visioni lo abbiamo anche apprezzato però era troppo focalizzato sulle graphic novel italiane era quello il loro intento vabbè tutto il resto però mettete voi una collana anche realizzata dal punto di vista della tenuta dei volumi in maniera molto più pregevole ma che includa dall'intervista Emanuel Fior fino a Ghost World di Daniel Close e poi anche Inyo Asano per quanto non è che Inyo Asano sia il nostro mangaka preferito però c'è da dire che è molto apprezzato in un formato anche gigante che è inedito per i manga esatto è probabilmente un modo per passare dai manga alle graphic novel dalle graphic novel fumetto europeo più specifico mancano solo i supereroi però è chiaro che non li abbia inseriti magari perché non si armonizzava il tutto quindi veramente veramente figa promossa 10 su 10 concludiamo con due arrivi da parte di una casa editrice e di un collettivo abbiamo quindi il Rosso Oltremare di Manuel Fior che continua a dire Rosso Oltremale non ho idea che cazzo di dislessia mi sia venuta è un cartonato della Oblomov con la riedizione di una delle prime storie di Manuel Fior dove chiaramente osserviamo un comparto grafico sicuramente affascinante ma che poi per chi ha letto le successive graphic novel di Manuel Fior sa come è andato a maturare sa che tipo di percorso ha fatto quest'artista e verte tutto sul concetto di ricerca di perfezione sia dal punto di vista concreto che da un elemento di carattere metaforico non vi diciamo niente perché la recensione è prossima di pubblicazione sulla pagina Instagram per il collettivo Clinkers invece abbiamo Habitat quindi un collettivo che ha deciso di realizzare un volume antologico come succede spesso nell'universo dell'autoproduzione il concetto di base è piuttosto interessante ovvero il concetto di casa di Habitat di abitazione e quindi tutte le storie che mutano graficamente da autore autore come in qualsiasi volume antologico e dobbiamo dire che dal punto di vista grafico ci sono piaciute tutte cioè nel senso che riusciamo a sfogliare chiaramente brevemente un po' tutti i racconti e dobbiamo dire che c'è una certa maturazione da parte di questi ragazzi ho letto le prime tre storie e ci sono degli spunti interessanti chiaramente pregi e difetti verranno presentati in una recensione sulla pagina Instagram direi che come primo progetto questa realtà convince questo è stato il primo videoacquisti diviso in due parti di cui la seconda parte era divisa ulteriormente in due parti e speriamo di non dover più sfruttare un casino di questo genere per mostrarvi tutti gli acquisti effettuati nell'arco dei due mesi in questo caso novembre e dicembre approfittiamo anche del fatto che abbiamo qui davanti i Patience di Daniel Close per dirvi che sarà uno dei tre premi previsti per il giveaway che lanceremo prossimamente sulla pagina Instagram quindi se siete interessati seguiteci anche lì per poter capire come partecipare sì questa domenica mattina domenica 29 gennaio non sappiamo se questo videoacquisti uscirà prima o dopo ma in ogni caso potete tranquillamente parteciparvi quindi link in descrizione della pagina Instagram e niente speriamo che questo videoacquisti vi sia piaciuto fateci sapere se avete letto acquistato anche voi qualcuna tra queste serie e se ci consigliate qualcosa in particolare e noi come sempre ci vediamo al prossimo video a presto